Stimola questo punto del braccio per calmare ansia e stress in pochi secondi E lo stile di vita odierno ci ha, da una parte, reso l'esistenza più semplice, dall'altra ci ha portato ad essere sempre più esposti al rischio di stress, ansia e tensione. La goppressione è un'antica tecnica che ci permette, tra le altre cose, anche di alleviare ansia e stress. La goppressione Questa tecnica consiste nell'effettuare una leggera pressione su determinati punti del corpo per ottenere benefici di salute. Di seguito ti spieghiamo come sbarazzarsi di ansia e stress attraverso la goppressione, elencandoti i punti principali. Si trova due dita sotto la rotula, verso la parte esterna della gamba. Effettuando una leggera pressione per un minuto su questo punto si va ad aumentare e regolare il flusso di energia, alleviando stanchezza e aumentando la concentrazione. Immagina una linea retta sul palmo della mano, che va dal punto che si trova tra indice e medio e scende lungo il braccio, il punto innergate si trova su questa linea, a tre dita di distanza dalla piega del polso. Applicare una pressione su questo punto aiuta a proteggerci dall'eccesso di stress. Si trova sulla parte molle tra il pollice e l'indice. Stimolare questo punto aiuta a ridurre la tensione muscolare e ad alleviare lo stress. A circa un dito di distanza sotto la base del cranio, questo punto si trova sui muscoli del collo che sporgono su entrambi i lati della colonna vertebrale. USA entrambi i pollici per applicare una pressione su entrambi i punti.